Le Filippine! Prego il Tempio d'Oro! Il Tempio d'Oro va al gruppo delle Filippine. Cala così il sipario sulla settantesima Sagra del Mandorlo in Fiore, il sessantesimo festival internazionale del folklore ed il quinto European Dance Caravan. Ieri pomeriggio, ultimo spettacolo e cerimonia di premiazione, causa maltempo non nell'usuale cornice del Tempio della Concordia, ma al Teatro Pirandello. Ad esibirsi dieci gruppi internazionali ospiti. Il primo premio come miglior costume è andato alla Tailandia, miglior danza, alla Bulgaria, miglior musica, all'Ucraina, che ha anche ricevuto il premio Ugo Recapriata, segnato dalla sua stampa. E alla Spagna, premio Gigi Casesa per la migliore espressione artistica. Tre le missi primavera elette quest'anno appartenenti ai gruppi dell'Ungheria, Bulgaria e Tailandia. Una kermesse che ha avuto per il secondo anno consecutivo la direzione artistica di Francesco Bellomo, direttore del festival del folklore Nino Lauretta, con al suo fianco Riccardo Cacicia. Presentatori della manifestazione, Claudio Atosoni e Salvo La Rosa, affiancati dalle due miss elette per l'occasione, Elena Bulone, Miss Sagra e Sharon Cacciatore, Miss Festival. Una sagra voluta dal commissario straordinario del comune di Agrigento, Luciana Giammanco, finanziata con il 30% degli introiti dello sbigliettamento della Valle dei Templi, e che ha ricevuto in extremis anche dei fondi da parte della regione Sicilia. Edizione 2015, seguita ma segnata dal maltempo, causa pioggia e il tripode dell'amicizia, che segna l'inizio della manifestazione, è stato acceso martedì scorso, non al Tempio della Concordia, ma nel latrio del Teatro Pirandello. Causa maltempo, la fiaccolata dell'amicizia è stata posticipata di un giorno, ovvero giovedì scorso. Si è svolta in tono minore la sfilata per le vie del centro ieri mattina. In pochi rappresentanti dei gruppi hanno sfidato la pioggia, abbattente e pochi temerari sono andati in Via Tenea per vederli. Come detto, anche la cerimonia conclusiva non è stata fatta alla Valle dei Templi, ma al Teatro Pirandello, che ha registrato il sold-out. In molti sono rimasti fuori ed i gruppi, su richiesta della macchina organizzativa, dopo l'esibizione sul palcoscenico, sono usciti uno alla volta, anche tra la gente rimasta fuori il teatro. L'augurio è dunque a questo punto che la Sagra trovi il prossimo anno un periodo climaticamente più adeguato, anche se si dovesse rinunciare ai mandorli in fiori. A proposito di sorrisi, le Filippine pregono Templo d'Oro 2015.